Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema del microfono che non funziona su OBS Studio ovviamente il mio microfono sta andando benissimo, come puoi vedere sta anche la barra come si alza e scende piano piano quindi per risolvere il problema se tu hai un buon microfono e lo hai collegato al pc come puoi vedere questa è la cattura l'audio in entrata, su più cattura l'audio in entrata e scegli così il tuo microfono e ovviamente se vai su app che usano il microfono, per esempio adesso vado un attimo su sistema e cerco microfono, impostazione di privacy per il microfono ed eccolo qua e qui ci sono le applicazioni che usano il microfono, come puoi vedere attualmente in uso se tu attivi questa cosa qua, consenti alle app desktop di accedere al microfono automaticamente il microfono tornerà a funzionare su OBS se io adesso la tolgo non mi sentirete più quindi come puoi vedere ho riattivato così consenti a OBS Studio di usare il microfono sul desktop e funziona se in questo caso avete altri problemi andiamo su impostazioni audio microfono questo è il mio microfono se ricordo bene dove era la schedina, altre impostazioni audio registrazione ed eccolo qua, questo è il mio microfono proprietà funziona benissimo potete abilitarlo e disabilitarlo qui sopra quindi se questo video ti è stato utilissimo su come far tornare a funzionare il microfono su OBS Studio o su Windows 11 iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao